Questore, che questura lascia qui a Terni? È una bella questura, fatta di operatori seri, capaci e professionali, rispondendo un po' a quella che è la collettività ternana. Gente per bene, gente buona, gente che ci ha saputo collaborare in ogni fase del nostro delicato lavoro. Abbiamo cercato di dare a tutti una risposta, abbiamo cercato la collaborazione di tutti, delle associazioni, dei comitati, dei cittadini. Non abbiamo tralasciato nulla, con la coscienza sono sereno, i miei collaboratori sono sereni. I risultati oggettivi ci dicono che il lavoro che abbiamo intrapreso insieme alle altre forze di polizia, la prefettura, hanno dato dei risultati consistenti. Insomma, i problemi sono stati affrontati se non risolti completamente, fortemente contenuti. E questo è un momento di soddisfazione che ci induce a dire che il percorso intrapreso può essere continuato con tranquillità. Lascio una città, certamente, dove il sistema sicurezza integrato funziona. Spero che continuerà a funzionare, c'è tanto da migliorare, noi non possiamo mai fermarci perché va sempre fatto qualcosa in più e lavoriamo per questo. E quindi è una città dove la vivibilità è ottima e dove la sicurezza viene garantita da tutte le forze dell'ordine in maniera coordinata. I cittadini collaborano tantissimo, quindi spero che sia sempre più una città sicura, più serena e più vivibile. Che cosa porterà a Latina di questa esperienza ternana? Beh, è stata la mia prima esperienza da quest'ora e quindi tutto. Quello che vi dico e vi chiedo cortesemente attraverso voi ringraziare tutta la collettività. Veramente di cuore perché, ripeto le parole con le quali si è concedato Monsignor Vecchi, l'amministratore apostolico, la gente ternana è di pasta buona, è fatta di pasta buona. È veramente un bel ricordo e spero di conservare tantissimi amici. Grazie a tutti.